Heinrich von Kleinst La Marchesa Dio La Marchesa ciaceva ancora col petto anstante tra le braccia di sua madre quando venne questa donna cui la signora spiegò di quali strane fantasie fosse ammalata a sua figlia poiché giurava di essere stata virtuosa ma ingannata da una sensazione incomprensibile La Marchesa aveva pur creduto necessario che una donna esperta la visitasse La levatrice che andava esaminando parlò di sangue giovane e delle insidie del mondo e quando ebbe finito disse che le erano già occorsi tali casi e che le giovani vedue in simili condizioni affermavano tutte di essere vissute in isole deserte ma cercò di calmare la signora Marchesa facendole capire che prima o poi si sarebbe trovato il gaio corsaro approdato di nottetempo A queste parole la Marchesa svenne La madre che non poteva reprimere il suo risentimento materno la fece bensì rinvenire con l'aiuto della levatrice ma quando la vide ritornata in sé fu vinta dall'indignazione Giulietta esclamò con più vivo dolore vuoi confessarti con me vuoi nominarmi il padre e pareva disposta a perdonare ma quando la Marchesa disse che stava per diventare pazza la madre salzò dal divano e gritò va via va via sei una miserabile maledetta l'ora che t'ho messa al mondo e uscì grazie a tutti